Anche quest'anno la rete sarà centrale nel nostro programma e in due modi. Prima di tutto il nostro partito liquido. Da oggi noi daremo vita a un grandissimo esperimento di partecipazione dal basso e cioè metteremo a disposizione di qualunque cittadino abbia voglia di dare le proprie proposte su qualunque tema che rappresenta una crisi in Italia, dal debito pubblico, all'evasione fiscale, dalla difesa dell'ambiente, all'affermazione dei diritti civili, la piattaforma Liquid Feedback, quella oggi usata dai pirati tedeschi, cercando di coinvolgere il maggior numero di cittadini possibile, non solo grazie a tutte le nostre reti, quindi servizio pubblico, Facebook, Twitter e soprattutto la rete dei nostri donatori, ma anche grazie al coinvolgimento di quelli che sono le personalità più influenti della rete e sono oltre 30 e hanno partecipato proprio attivamente alla formazione di questa piattaforma. Ne cito soltanto alcuni, visto che sono molti, da Luca De Biase, del Sole24ora, Riccardo Luna, da Guido Scorza, Stefano Quintarelli, passando poi per Claudio Coccoluto. Quindi una diversità di questa rete proprio per raggiungere il massimo numero di cittadini possibile. A questa piattaforma si accompagnerà la ricerca del leader e cioè noi abbiamo preso quelli che sono gli otto leader in alto nel sondaggio per la preferenza del potenziale premier e li metteremo in sfida ogni settimana. Lo faremo sia utilizzando la rete, quindi la rete deciderà chi andrà in sfida, saranno due persone ad andare in sfida ogni settimana e poi con il televoto in diretta via sms per scegliere l'eliminato. Alla fine ci sarà un potenziale premier, un potenziale leader che si sfiderà con Monti nell'ultima puntata e quindi capire chi nella nostra cerchia di telespettatori, fra quelli che noi riusciremo a raggiungere attraverso tutte queste reti, preferiranno fra Monti e questo leader che noi troveremo attraverso questa sfida. La piattaforma Liquid Feedback partirà da oggi coinvolgendo prima di tutto in maniera esclusiva la nostra rete dei 20.000 iscritti alla rete dei donatori, quei famosi 100.000, insieme alla rete attraverso inviti esclusivi, 100 inviti a personalità che partecipa alla nostra piattaforma e poi da giovedì apriremo questa piattaforma a tutti e quindi chiunque potrà dare la propria proposta per risolvere un problema dell'Italia.